Benvenuti, signore e signori. Portarvi in un mondo fantastico. Popolato da personaggi bizzarri e mitologici. Conoscerete creature straordinarie. Capaci di imprese memorabili e stupefacenti. E niente è come sembra. Francia. Io vedo la prossima. Questo bambino e queste tre chiamenze sono la nostra unica speranza. Sì, Hitler! Si è convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. E il suo regalo per Hitler? Un pugno di supermobili con lui al comando. Io come faccio senza sete? Non c'è se pare nessuno. Manco la guerra. Questa è che ha confinato! Io non ammazzo nessuno. A guerra è guerra. Falli fruttare sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione. Noi senza circo siamo se non abbandano le vostre. Drei, menno. O da un kleines mietchie. Riedono la stritta rete in dito con la casa. Tu sei speciale, Dinizio. Tu hai un dono. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.